Buongiorno a tutti, avverto che se non vi sono obiezioni a pulizia dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Oggi abbiamo l'audizione del Presidente dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA Stefano Laporta che ringrazio. L'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Istituto Superiore Stefano Laporta che ringrazio della presenza. Il Presidente Laporta è accompagnato dal Dottor Andrea Lanz, responsabile del Centro Nazionale dei rifiuti dell'economia circolare, e dal Dottor Fabio Ferranti, responsabile del Servizio per i rischi e la sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive. Avverto il nostro ospite che della presente audizione sarà redatto un resoconto stenografico e che, se lo riterrà opportuno, consentendo la Commissione, i lavori potranno proseguire in seduta segreta. L'audizione odierna rientra nell'ambito di un programma di audizioni deliberato dall'Ufficio di Presidenza nella riunione del 25 ottobre scorso, che mira ad approfondire questioni di carattere generale sulle materie oggetto di inchiesta ai sensi della legge istitutiva della Commissione. In particolare, ricordo che la Commissione è chiamata a svolgere indagini atte a far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, con particolare riguardo alla verifica di comportamenti illeciti nell'ambito della pubblica amministrazione centrale e periferica, ovvero dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, con l'obiettivo specifico di individuare eventuali connessioni tra tale attività illecite e altre attività economiche, nonché con riferimento alla destinazione e utilizzo dei fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Campo Ambientale. La Commissione intende inoltre acquisire elementi di conoscenza utili alla verifica della sussistenza di attività illecite relative alla gestione dei servizi di trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti da parte dei soggetti pubblici o privati, nonché ai relativi sistema di affidamento, ovvero alle attività di bonifica dei siti inquinanti, a seguito del mancato rispetto alla normativa vigente in materia ambientale. In tal senso, ricordo che la Commissione ha recentemente concluso una missione in Campania, con lo specifico obiettivo di approfondire il fenomeno legato agli incendi dolosi di rifiuti nell'area della cosiddetta terra dei fuochi, ovvero presso impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei medesimi o siti abusivi di discarica. Cedo dunque la parola al nostro ospite per lo svolgimento della relazione, al termine della quale i colleghi parlamentari potranno rivolgere eventuali domande o richieste di chiarimento, iscrivendosi presso la Presidenza. Grazie. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti i membri del Parlamento. della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica voglio innanzitutto ringraziare il Presidente e la Commissione per aver dato a me e all'Istituto, che ho il piacere e l'onore di presiedere, la possibilità di questa audizione, assicurando anche, lo dico subito in premessa, il pieno supporto di Ispra e dell'SNPA, le attività che la Commissione riterrà di intraprendere, come abbiamo già fatto anche nel passato. Porto anche il saluto del Direttore Generale e del Capodipartimento competente, che avrebbero avuto anche piacere di essere qui con me oggi, ma sindrome influenzali non hanno consentito alle due colleghe di essere con noi nella seduta odierna. Se il Presidente è d'accordo, divideremo questi 20 minuti di presentazione e di relazione in tre parti. La mia brevissima introduzione, poi ci sarà il collega Lanz, che vi darà qualche elemento sull'economia circolare, sul tema della gestione dei rifiuti, e poi ci sarà il collega Ingegner Ferranti, che parlerà più direttamente dell'attività ispettiva. Consegneremo poi, Presidente, al termine, ci avvarremo, se ci sarà la possibilità del tempo, durante questi 20 minuti, anche di supporto tramite slide. Queste sono state preparate anche per agevolare le nostre presentazioni, ma lasceremo al termine dell'audizione la relazione completa, anche con i dati, in modo da poter poi consentire, a parte le domande che al termine ci vorrete rivolgere, consentire poi ai componenti della Commissione una lettura, ovviamente, più completa rispetto alle considerazioni che cercheremmo di fare in questi minuti. Prima di tutto, la mia presentazione mira semplicemente a presentare l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, che è un ente pubblico di ricerca, dotato di autonomia tecnica-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestioniale, patrimoniale e contabile, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Noi disponiamo di laboratori scientifici, strumentazioni e mezzi nautici di ricerca, tecnologie all'avanguardia. Abbiamo una sede a Roma, oltre ai laboratori, e sedi poi nostre su tutto il territorio nazionale, che ci permettono di esercitare le funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità, sia a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sia in via diretta, con i compiti che ci sono stati attribuiti dal legislatore con la legge 132 del 2016 e prima ancora con il cosiddetto testo unico in materia ambientale, tramite le attività di monitoraggio, valutazione, controllo, ispezione e gestione dell'informazione ambientale in una logica di integrazione progressiva nell'ambito appunto del Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente, che come probabilmente sapete è composto da Ispra e dalle agenzie regionali e delle due province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Sistema che è stato istituito nel 2016, non a caso il legislatore del 2016, la legge, ricordo, è stata approvata all'unanimità dai due rami del Parlamento e istituendo proprio il Sistema Nazionale ha voluto segnalare questa parola a Rete per la protezione dell'ambiente e l'istituzione dell'SNPA ha inciso profondamente nei compiti dell'ISpra, ponendo in capo all'Istituto funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico di tutto il sistema, che sono finalizzate a rendere omogenee sul territorio nazionale, azioni conoscitive di controllo pubblico della qualità dell'ambiente. La legge 132, nei fatti applicata dalle sue componenti dal momento della sua entrata in vigore, necessita oggi di una piena e definitiva attuazione attraverso l'emanazione di una serie di decreti attuativi, tra questi i più rilevanti sono il DPCM di individuazione e attuazione dei cosiddetti livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale. Noi abbiamo avuto anche il piacere di essere auditi dalla Commissione che è stata istituita per l'individuazione dei cosiddetti LEP, all'interno della quale abbiamo svolto una relazione proprio sul tema dei livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale, che sono quei livelli minimi omogenei che il sistema è tenuto a garantire sull'intero territorio nazionale, che sono obiettivi prioritari della pianificazione delle attività, sia di ISPRA, sia delle singole agenzie nazionali. Accanto a questi abbiamo altri decreti attuativi, il cosiddetto decreto di regolamentazione delle attività ispettive e di controllo e abbiamo anche il decreto che dovrà, diciamo, fissare le tariffe nazionali delle spese relativo al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere sottoposti alle vigenti procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenute alle procedure di benefica e messe in sicurezza dei siti inquinati. Devo dire che su questo tema abbiamo... Devo segnalare l'attenzione del Ministro Pichetto Fratin, che, diciamo, ha ripreso l'iter di questi decreti di attuazione e li sta portando avanti. Ci auguriamo, ovviamente, con il concorso e l'aiuto anche dell'ausilio del Parlamento che questi decreti attuativi possano essere finalizzati in tempi molto rapidi perché effettivamente sono uno strumento importante per attuare compiutamente le previsioni della legge 132 del 2016. Sul tema del regolamento delle attività ispettive del sistema nazionale voglio segnalare, poi lo dirà meglio il collega Ferranti, a cui cederò subito dopo ai colleghi la parola, che comunque in questi anni, soprattutto dopo il PNRR, l'azione ispettiva e di controllo del sistema nazionale per la protezione dell'ambiente è un'azione che è stata finalizzata ad accompagnare cittadini e imprese nel percorso verso lo sviluppo sostenibile, considerando quindi l'azione di controllo in chiave repressiva, che è doverosa laddove sussista poi o si verifichi la presenza di ipotesi di reato, considerandola comunque in qualche modo residuale rispetto a un compito più generale che, vista la situazione, abbiamo ritenuto di interpretare in un senso appunto di accompagnamento verso tutte quelle imprese che si sono già mosse sul percorso della sostenibilità e allo stesso tempo anche tenere informati le cittadine e i cittadini italiani di quella che è formati e informati rispetto a quelle che sono le attività di Ispra e dell'SNPA. Questo attraverso tutta una serie di iniziative, di informazione, di formazione, ma anche attraverso l'utilizzazione, l'utilizzo di linguaggi meno tecnici e più fruibili da parte di chi non è addetto ai lavori. Io starei qui nella presentazione, se il Presidente mi permette chiederei di cedere la parola al collega Lanz per la parte sull'economia circolare e rifiuti. Mi permetto già comunque di segnalare che il 21 dicembre prossimo, il Presidente lo sa perché sarà presente, svolgeremo appunto la presentazione del rapporto rifiuti edizione 2023. Giovedì 21 mattina, giusto? Giusto. Possiamo? Grazie. Prego, come ritento opportuno. Grazie mille Presidente, saluto a tutti i senatori e onorevoli. Allora io sintetizzerò molto brevemente quelle che sono le principali attività che Ispra effettua nell'ambito dell'economia circolare e della gestione dei rifiuti. Poi ovviamente sulla relazione queste informazioni sono molto più articolate. Allora diciamo sostanzialmente noi possiamo distinguere diverse tematiche. Un primo aspetto che sicuramente è molto importante nell'ambito dell'applicazione della norma è l'attività di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi. Allora sappiamo che l'Unione Europea da questo punto di vista ha introdotto molti obiettivi di monitoraggio dell'applicazione delle normative, obiettivi sul riciclaggio, sul recupero dei rifiuti e questa attività di rendicontazione è un compito che spetta a Ispra. Quindi noi annualmente forniamo tutte le informazioni relative alla rendicontazione di questi obiettivi che riguardano sia i rifiuti urbani che i rifiuti di imballaggio che specifiche filiere quali RAE, Pile e via discorrendo. Ovviamente, come diceva il Presidente, noi pubblichiamo anche e rendiamo pubbliche tutte le informazioni sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali attraverso due specifici rapporti. Il rapporto rifiuti urbani che verrà pubblicato la prossima settimana, invece il rapporto rifiuti speciali che verrà pubblicato a metà dell'anno prossimo. Tutte queste informazioni sono inoltre contenute, pubblicate, rese disponibili a tutti gli utenti attraverso il sito del Catastro Nazionale dei Rifiuti, quindi ci sono tutte le informazioni liberamente consultabili e scaricabili. Queste sono in grandi linee, in termini molto veloci, quelle che sono le attività di monitoraggio degli indicatori e dei dati sui rifiuti. Ovviamente, come Istituto, facciamo poi tutta un'altra serie di attività di carattere tecnico, in principal modo a supporto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sia riguardo all'implementazione della nuova normativa, sia nel monitoraggio e vigilanza dell'applicazione della norma. In particolar modo, una tematica che sicuramente ha assunto sempre più importanza è quella relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, quindi alla decretazione endowaste. Su tale aspetto supportiamo il Ministero attraverso degli interventi di tipo tecnico sulla decretazione e quindi sull'introduzione di nuovi decreti, in particolar modo negli ultimi due anni abbiamo lavorato sulla decretazione relativa all'endowaste degli inerti, l'endowaste dei rifiuti tessili, del gesso e delle plastiche miste, ma poi ce ne sono molte altre. Ovviamente questo riguarda i decreti nazionali. Poi la normativa endowaste prevede anche la possibilità di attuare la cosiddetta autorizzazione caso per caso, in questo caso la competenza ricade nelle amministrazioni locali, nelle pubbliche amministrazioni, quindi nelle regioni e nelle province, quindi quelle tipologie di rifiuti che possono essere trasformate in materia prima o seconda e che non sono disciplinate da norma nazionale vengono disciplinate da normative regionali o provinciali e è appunto il cosiddetto caso per caso. Su queste tipologie di impianti, in convenzione con il Ministero, perché l'articolo 206 bis del 152 prevede che il Ministero e l'ISPRA effettuano tutta una serie di attività e su queste attività è stata siglata una specifica convenzione tra l'ISPRA e il Ministero e all'interno di queste attività rientra proprio la vigilanza sulla gestione dei rifiuti. In questo ambito, a partire dal 2019, con il supporto delle ARPA, con le quali tra l'altro sono state siglate specifiche convenzioni, sono state fatte 1.514 ispezioni, chiaramente c'è stato il 2020 che è stato un anno di transizione un po' particolare, però insomma 1.514 ispezioni che hanno riguardato alcuni flussi di rifiuti che il Ministero ha individuato come prioritari in quel momento, in particolar modo gli impianti autorizzati in procedura semplificata, gli impianti che gestiscono i rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, gli impianti che gestiscono i velicoli a fine vita, gli impianti che gestiscono la frazione organica e ovviamente all'interno di questi controlli sono state fatte anche delle verifiche sugli impianti endo-waste, quindi quelli che producono materia prima e seconda. Tra le altre attività che Ispra effettua a supporto del Ministero vi è tutta quella parte che riguarda il riconoscimento e monitoraggio dei sistemi autonomi di gestione di specifici flussi di rifiuti, in particolar modo nel settore degli imballaggi, nel settore delle plastiche, sono stati riconosciuti i consorsi autonomi alternativi al sistema CONAI nel rispetto appunto della normativa vigente e Ispra si è occupata della parte tecnica di riconoscimento di questi sistemi e effettua poi il monitoraggio dei sistemi stessi. Poi sono stati effettuati specifici studi sempre nell'ambito di questa convenzione su alcune filiere di interesse, in particolar modo la plastica e sulle modalità di raccolta differenziata attuate dai comuni e su altre tipologie di flussi comunque importanti. Nella breve sintesi che sto facendo volevo chiudere poi invece con quelle che sono le attività che attualmente Ispra effettua a supporto del Ministero nell'applicazione e revisione della normativa tecnica di settore. Ci stiamo occupando del supporto tecnico nel ricepimento, nella discussione del nuovo regolamento imballaggi che sappiamo è un regolamento che ha un impatto non indifferente sui sistemi di gestione, quindi su questo stiamo fornendo il nostro supporto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e poi ci occupiamo appunto di supportare nella definizione di tutte le metodologie di calcolo degli obiettivi. Un'altra tematica molto importante che nell'ultimo anno ha assunto un ruolo importante è quello relativo alla risorsa propria della plastica. Sappiamo che sulla plastica la Commissione europea ha introdotto una risorsa propria pari a 80 centesimi per chilogrammo di plastica non recuperata, riciclata scusatemi, e su questo noi siamo il soggetto che deve fornire l'informazione del monitoraggio di questo obiettivo e su questo tema noi abbiamo nel 2023 abbiamo avuto due incontri, due visite attualmente ancora informali ma che poi verranno trasformati in audit informali da parte di Eurostat e della Commissione europea per valutare le modalità di rendicontazione di questi obiettivi e a novembre abbiamo avuto un incontro con la Corte dei Conti europea sempre su questa tematica. E poi ci sono tutta una serie di altri aspetti che Ispra nel settore dei rifiuti segue, delle urne circolari segue, il monitoraggio del programma nazionale di gestione dei rifiuti e del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti che sono due riforme abilitanti del programma di ripresa e resilienza, quindi su questo aspetto Ispra fa il monitoraggio dei vari indicatori a livello nazionale e poi ci sono specifiche filiere che riguardano esempio i rifiuti pescati che è un'altra tematica su cui l'Unione europea sta mettendo particolari interessi e quindi Ispra si occupa anche del monitoraggio di questi indicatori. Questi sono un po' gli aspetti più emergenti dell'ultimo periodo ma poi diversi altri argomenti sono contenuti nella relazione che vi abbiamo predisposto e che potete consultare. Presidente, se è d'accordo aggiungo solo alla presentazione del collega Lanz il lavoro che è stato fatto l'anno scorso proprio col Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per il raggiungimento degli obiettivi Maison e Target previsti nella missione che riguardava proprio l'economia circolare che ha consentito, devo dire, hanno fatto un grandissimo lavoro i colleghi perché in 60 giorni sono stati esaminati 4.000 richieste di progetti quindi diciamo un obiettivo che è stato raggiunto grazie all'impegno ovviamente del Ministro ma grazie al contributo poi delle colleghe e dei colleghi in valutazione tecnico-scientifica di Ispra e del sistema. Se è sempre d'accordo le chiederei di passare la parola all'ingegner Ferlanti per la parte sull'ispezione. Noi poi abbiamo anche una piccola, forse lasciamo il documento sulla terra dei fuochi così come ci avevate chiesto per la parte che è di nostra competenza ovviamente. Grazie. Grazie alla parola, buongiorno ai senatori e all'onorevoli. Per quanto riguarda la terra dei fuochi io se volete espongo una sintesi che fa parte della relazione che è stata consegnata. C'è da dire che Ispra è a supporto di un gruppo di lavoro che è istituito con la legge 6 del 2014. Volendo posso sintetizzare anche se il riferimento di questo gruppo di lavoro è affidato della segreteria, il coordinamento del Cufa, quindi del generale Rispoli, Andrea Rispoli, coordinatore dal 22 luglio. Quindi i migliori dettagli potranno essere definiti da parte proprio del gruppo di lavoro. Comunque questa è la terra dei fuochi che è stata istituita con legge 6 del 2014. Inizialmente non gli erano neanche i criteri per poter individuare le aree a maggior rischio per la parte agricola e la finalità era quella proprio di svolgere indagini tecniche per la mappatura anche mediante il terreno di rilevamento dei terreni della regione campana destinati all'agricoltura al fin di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti. Quindi il gruppo di lavoro è costituito da tanti enti autorevoli, quindi oltre il Cufa c'è anche l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore di Noi, l'Istituto Nazionale di Geofisica, anche l'Agenzia per l'Erogazione dell'Agricoltura, quindi oltre il Consiglio per la Ricerca dell'Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria. C'è da dire che sono stati individuati 90 territori, in parte ricadenti nella provincia di Napoli, in parte nella provincia di Caserta, 88 sono i comuni interessati per un totale di 15.763 particelle, di cui sono state analizzate tutte a livello preliminare con ortofoto, però diciamo dei 620 ettari hanno avuto un'indagine più approfondita, rimangono da approfondire 12.000 particelle. Inizialmente il gruppo di lavoro ha individuato i livelli di rischio, che vanno da livello più basso a livello più alto, da livello 1.5, proprio per poi dopo arrivare alla classificazione dei terreni, diciamo che va dalla lettera A alla lettera D, dove la lettera AD è quella diciamo con terreno condividuato di produzione agricole, mentre la lettera A è quella diciamo con terreni doni delle produzioni agroalimentari. Comunque tutto è disponibile anche sul sito dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, ci sono ancora in corso numerose attività che riguardano vaste aree che sono limitrofe a siti potenzialmente inquinati, con presenza ad esempio di discariche. Questa è la parte che riguarda terra di fuochi. Per quanto riguarda invece la parte che è più propria, che è proprio in cui Ispra svolge un ruolo di autorità di controllo, oltre che di supporto al Ministero per le autorizzazioni integrate ambientali, diciamo c'è da dire che questa attività è iniziata con il ricepimento della direttiva diciamo europea sulle autorizzazioni integrate ambientali, sui controlli integrati e la prevenzione integrata, proprio perché si è passato da un approccio di settore, quindi a normativa diciamo di settore che riguardava le varie matrici, ad contesto unico, ad un approccio integrato. Il Ispra ha stipulato all'interno del sistema nazionale di protezione dell'ambiente diciamo una convenzione ormai che è consolidata di collaborazione e si avvale per effettuare le attività di controllo con delle agenzie per quanto riguarda le attività di campionamento e sul posto. Gli impianti diciamo di competenza statale sono 140, mentre sono quelli più complessi, sono individuati la differenza tra competenza statale e competenza regionale disciplinata dal legato 12 alla parte seconda del 152. Per fare un esempio diciamo tutti gli impianti di raffinazione del petrolio, gli impianti diciamo chimici di determinate intensità, diciamo di determinate capacità produttive, gli impianti di produzione di energia elettrica al di sopra dei 300 megawatt termici, i ricassificatori, quindi tutti gli impianti a mare diciamo, ricassificatori di energia, quindi impianti che rappresentano una peculiarità ma anche un aspetto strategico per la sicurezza energetica, così come anche tutte le piattaforme di estrazione nel momento in cui hanno degli scarichi a mare, oltre che diciamo tutte le reti di distribuzione del gas, le centrali di compressione. Per ultimo gli impianti strategici nazionali, ce ne abbiamo due, uno è lo stabilimento sidorugico di Taranto, l'altro è quello diciamo della raffineria petrolifera dell'ISAB di Priolo. In base a questa, tutti gli altri impianti diciamo sono la maggioranza, perché si sta parlando di 140 impianti di competenza considerevole rispetto a un 6.300 impianti diciamo di competenza regionale, per esempio tutti gli impianti di gestione dei rifiuti rientrano nella competenza regionale. Per questo quindi ci sono dei gruppi di lavoro all'interno del sistema agenziale e per ricostruire quelle che sono le attività che vengono effettuate annualmente e annualmente pubblichiamo un rapporto controlli, l'ultimo che è stato pubblicato è quello relativamente all'anno 2021 e in elaborazione quello dell'anno 2022. Quindi nelle slide che diciamo sono state, abbiamo predisposto, prese disponibili, ci sono i dati di tutti diciamo lì i controlli effettuati e scientificamente c'è da dire che i controlli rappresentano, se è possibile sì, perché io diciamo se vogliamo un dettaglio maggiore altrimenti riferisco. La seconda slide è quella che riguarda sui controlli diciamo e monitoraggi e ispezioni ambientali 2021-2022. C'è da dire che il sistema pubblico dei controlli diciamo è un sistema che ha la finalità è quella di essere un ente terzo a garanzia diciamo della terza età sia diciamo nei confronti delle aziende che nei confronti diciamo dei portatori di interesse cittadini. Però la nostra finalità è quella di dare diciamo la massima trasparenza e che non a caso nel testo decreto registrativo 152, l'articolo 29.10, prevede che ad esito di ogni controllo diciamo che viene effettuato deve essere pubblicata diciamo di essere resa nota quelle che sono gli esiti. Quindi la relazione sull'esito dei controlli viene pubblicato entro due mesi dall'ultimo accesso presso lo stabilimento. Quindi questa è una prescrizione di legge che deve essere rispettata e su questo non è diciamo sanzionata nei confronti della pubblica amministrazione però diciamo cerchiamo diciamo insieme con tutti il sistema nazionale di diciamo di rendere disponibile anche perché tutte le informazioni inerenti i dati emissivi devono essere resi disponibili e noi li inoltriamo al Ministero che il Ministero tramite il sito diciamo appositamente costituito delle autorizzazioni e delle valutazioni le dispone. In più l'ISPRA ha un sistema diciamo web diciamo che all'interno del quale vengono pubblicate rendicontazioni periodiche annuali. Sì questa è la presentazione sulla terra dei fuochi che io ho già superato quindi diciamo possiamo andare all'altra all'altro file. Il sistema quindi dei controlli comprende 2500-2600 addetti diciamo il 25% del totale perché diciamo i 50% e le funzioni di non sono il personale addetto ai controlli che noi individuiamo come ispettore ambientale cioè perché è incaricato di pubblico servizio nel momento in cui accede agli impianti dotati di autorizzazione diciamo quelli riferimenti è previsto sia nella legge 61 del 94 che sia nel diciamo nell'ultimo decreto legislativo diciamo 132 del 2016 il potere di accesso però non è prevista in maniera diciamo automatica la qualifica OPG diciamo è stato introdotto col decreto legislativo 132 del 2016 però non è in capo diciamo ad i legali rappresentanti delle singole agenzie che può poter attribuire. Storicamente diciamo la qualifica OPG veniva diciamo riconosciuta proprio per connesso alla quelli che sono gli adempimenti inerenti al regime sanzionatorio diciamo del perché per il regime sanzionatorio possiamo avere una doppia applicazione quella che è di carattere amministrativo e di carattere penale. C'è da dire che l'esperienza ci ha portato che la peculiarità cioè quindi la peculiarità del sistema agenziale non è tanto avere gli strumenti della polizia giudiziaria ma quanto è dare un contributo tecnico scientifico nell'analisi dei cicli industriali quanto diciamo nel dare quindi un contributo in quello che può essere il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali negli impianti industriali. Per ecco qui in questa slide trovate quello che è l'andamento degli impianti, delle installazioni diciamo di competenza sia statale che diciamo regionale, provinciale con il rapporto in giallo delle verifiche ispettive che vengono effettuate. Nel grafico superiore quello che sono diciamo la competenza AIA, nel grafico diciamo nell'istogramma inferiore le attività sugli stabilimenti a rischio incidente rilevante perché ISPRA svolge il compito di inventario, acquisisce tutte le notifiche da parte dei gestori sui depositi delle sostanze pericolose ai fini dei rischi di incidente rilevante ed è di supporto oltre che al Ministero dell'Ambiente anche alle strutture del Ministero dell'Interno che è in collaborazione con l'INAIL, nelle attività di verifica sugli stabilimenti a rischio di incidente rilevante. C'è da dire che le attività di controllo riguardano un 30%, complessivamente noi riusciamo annualmente tutto il sistema ad verificare un 30% degli impianti e degli stabilimenti che sono oggetti di autorizzazione e di regolamentazione, quelli che sono gli esiti dei controlli. Gli esiti dei controlli hanno un carattere sia di non conformità, alcuni di conformità amministrativa, alcuni di conformità di sanzione penale. Sì, possiamo andare avanti, sì, con la slide possiamo andare avanti. L'altro grafico riguarda le installazioni di competenza statale e quelle di competenza regionale con le visite ispettive che vengono effettuate sia di soglia inferiore che di soglia superiore perché anche l'esistenza è rilevante a diverse soglie in funzione di quella che è la capacità di deposito del singolo materiale. In verde e in basso trovate quelle che sono, rispetto al numero di verifiche ispettive, quelle che sono non conformità di tipo amministrativo e quelle conformità di tipo penale. Quindi quello che stavo dicendo è che abbiamo circa un 30%, 31% di non conformità di carattere amministrativo che molte volte rilevano sulla gestione dei rifiuti, oppure sulla non rispetto specifico delle autorizzazioni, sulla mancate comunicazioni. Queste sono le carattere di carattere amministrativo. Mentre in quelle invece penale riguardano oltre la parte residuale sui rifiuti che potrebbe essere quando nel momento in cui non si è autorizzati, ma anche potrebbe essere il superamento a volte dei valori limiti di emissione, quindi sia in acqua che in matrice aria che acqua. In questo caso viene fatta la comunicazione alle procure, alle autorità giudiziarie competenti, lasciando la possibilità di poter applicare quella che è la parte sesta bis, che è la parte di penalizzazione che prevede la possibilità della prescrizione da parte di personale con la qualifica OPG. Molte volte il personale sia di Ispra ma anche di ARPA che non ha la qualifica viene chiamato in causa dal personale con qualifica OPG per poter fare l'asseverazione nel campo della prescrizione dell'essenza del decreto legislativo della parte sesta bis del 152. Quindi questo è un altro onere dal punto di vista. Dal punto di vista possiamo andare avanti con l'ulteriore slide. Questa c'è una particolare di quelle che possono essere le non conformità su quali settori i produttivi. Per esempio vediamo che gran parte riguarda la gestione dei rifiuti, 195 violazioni rispetto al totale 565 di tipo amministrativo, così anche come la parte non conformità penale 158. Le attività energetiche hanno un impatto minimale per quanto riguarda la parte sanzionatoria, mentre invece la produzione di metalli, la trasformazione di metalli e la parte anche chimica, quindi ha un apporto un pochino maggiore intermedio rispetto a quella che è la gestione. Questo per dare l'idea di quello che è il regime sanzionatorio, come incide, quali possono essere le tipologie da punto di vista. Possiamo andare avanti con una delle ultime slide. Qui c'è un, non si vede però lo trovate in maniera dettagliata sulla relazione, quali sono le regioni che occupano maggiore di impianti industriali soggetti all'autorizzazione, soprattutto c'è la Lombardia, poi viene anche il Veneto e l'Emilia-Romagna. In queste regioni c'è anche una maggiore attività di controllo che viene effettuato dalle strutture. C'è da dire quindi che infine possiamo andare avanti, il penultimo, questo è il riassunto della non conformità, possiamo passare all'ultima slide, il sistema pubblico quindi deve promuovere e garantire i diritti sostanziali di tutti, non soltanto dei portatori di interesse ma anche a garanzia dello sviluppo sostenibile per le aziende. L'unica nota da far notare è che rispetto a quello che sono l'investimento che viene dedicato alle strutture sanitarie, il rapporto è molto elevato, l'entità di investimento è minima rispetto a quello che deve essere l'apporto delle strutture sanitarie. C'è da dire che gli addetti ai controlli ormai hanno superato, tutti sono al di sopra dei 40 anni e c'è un sistema che pian piano si sta invecchiando perché il 55% ha più di 50 anni, quindi c'è la necessità di un ricambio generazionale per garantire quelle che possono essere, oltre che di risorse, per garantire quelle che sono le attività che vengono effettuate. Io ringrazio, rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie, attenzione. Allora, innanzitutto grazie ai nostri relatori, non so se ci sono domande, io mi sono appuntato qualcosa. La prima domanda che volevo, faccio giusto una domanda e poi lascio subito la parola. domanda. Durante la nostra visa in terra dei fuochi, un prefetto, è stata fatta una domanda fatta da un collega, il collega Borrelli, che ha chiesto naturalmente se e quante erano le persone, passatemi il termine, arrestate di tutte queste sanzioni, illeciti, tutto quello che è accaduto. È emerso che erano marginali, cioè erano minimi, probabilmente uno, forse neanche uno. Abbiamo potuto vedere con la nostra esperienza, disastri ambientali che condizioneranno in via futura forse probabilmente noi e i nostri figli, ma anche i nostri nipoti. Quindi è che, secondo me, non so se lo avete oggi o non lo si può recuperare, capire per quello che accade, se ci sono, e poi ci servirà a noi per capire, idonee sanzioni o comunque se da punto di vista sanzionatorio i nostri codici sono adeguati o se avete anche suggerimenti in tal senso, nel senso che comunque non è detto che aumentando la pena si abbia un risultato immediato, oppure dall'altra parte una mancata pena o comunque una sanzione non adeguata a quello che è l'illecito o quello che è stato commesso dalla persona che in questo caso è un disastro ambientale, per esempio, gli permette di poter tranquillamente agire e rifare la stessa cosa perché tanto se è una sanzione amministrativa è facilmente pagabile da persone che fanno introiti di milioni se non addirittura più euro. Quindi questa è forse la domanda che ci viene data quella che è stata l'esperienza. Poi non so se volete raccoglierle e puoi rispondere. Sì, forse ci comincia a raccogliere Ho sostanzialmente due domande. Una che riguarda la relazione sulla terra dei fuochi rispetto ai terreni classificati con un livello alto di inquinamento se ci sono poi delle fasi successivi, cioè se sono state previste delle bonifiche dei recuperi di questi terreni e se sì a che punto è il recupero dei terreni Poi ho una domanda per quanto riguarda le autorizzazioni integrate ambientali che spesso però si trova una divergenza tra la prassi amministrativa regionale e quella nazionale dove l'ISPRA è chiara nel ritenere che bisogna sempre valutare l'inquinamento integrato quindi tutte le matrici ambientali. Mentre spesso in alcune ARPA regionali e comunque in alcune regioni si va a guardare non l'inquinamento integrato quindi non l'impatto dell'impianto rispetto alle emissioni cioè la reazione degli inquinanti di un impianto rispetto al contesto diciamo sia per quanto riguarda le falde e l'area quindi si tende sempre a fare una valutazione delle singole componenti ma non l'impatto esterno rispetto all'ambiente e quindi il vero inquinamento perché un impianto magari in un contesto in cui è non inquinato magari può anche eccedere certi limiti mentre in un contesto che è già fragile perché già ha un pregresso di inquinamento ambientale anche una minima emissione che è consentita dalla legge quindi all'interno dei limiti di legge però tuttavia risulta un impatto e quindi poi l'inquinamento che deve essere registrato all'esterno che molte volte in serie di rinnovo dell'area non viene mai fatto perché viene sempre fatta una valutazione nella valutazione di impatto ambientale con la cosiddetta ipotesi zero ma è possibile che dopo 10-15 anni di un impianto quell'impianto non può esistere più in quell'ambiente perché le interazioni con l'ambiente esterno e gli inquinanti esterni hanno determinato una depressione ambientale ulteriore rispetto a questo che è un concetto che è difficile da praticare soprattutto l'ISPR è molto chiaro sulla differenza tra emissioni e emissioni quindi su questo tipo di valutazione integrata che poi è conforme alla direttiva europea sull'AIA però le prassi poi regionali rispetto alle AIE regionali che molte volte riguardano anche impianti molto impattanti troviamo una discordanza quindi non so rispetto a questo se c'è qualche se registrate questo tipo di difformità rispetto alla prassi che voi adottate per le AIE nazionali e se c'è qualche iniziativa se si può rimediare in qualche modo su questo grazie ti posso? no, non mi riesco prego grazie intanto della relazione che chiaramente leggeremo con più attenzione mi pare che in una slide era riportato le violazioni più ricorrenti rispetto alle normative ambientali su questo quali sono rispetto alle violazioni più ricorrenti rapportate alle regioni e quali sono le regioni con le maggiori criticità rispetto al sistema dei controlli e se questo dato è rilevante rileva quali potrebbero essere le motivazioni in termini di competenza di numero di controlli grazie prego grazie grazie per la relazione io ho una domanda flash che riguarda la acciaglieria di Taranto l'exilva è argomento di grande attualità sia dal punto di vista economico che dal punto di vista ambientale quindi vorrei sapere quali sono i dati e i responsi delle ultime verifiche che sono state effettuate da Ispra visto che ne sentiamo tante anche dal punto di vista ambientale però vorremmo avere dei dati concreti e capire se l'acciaieria sulla base degli accertamenti che avete svolto chiaramente e in maggio che ne avete svolto anche nel corso della stessa procedura di AIA vi sono delle violazioni in corso o se la situazione dal punto di vista ambientale è nella norma grazie grazie lascio la parola allora inizio io ringraziandovi per le domande e per l'attenzione che avete riservato alla nostra presentazione e anche al nostro lavoro mi permetto di diciamo di 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 tirare un tratto di di sottolineare un tratto comune le domande che sono state fatte dalle due parlamentari e anche un po' da chi è dal presidente insomma depongono nella vorrei dire esigenza nell'opportunità di arrivare rapidamente alla emanazione del DPCM sull'attuazione dei livelli essenziali di prestazione tecnica ambientale perché lo sforzo che noi abbiamo fatto di omogenizzazione dei controlli lascia però aperti i margini di competenza regionale e quindi quelle difformità che venivano rilevate sono difformità rispetto ad approcci sui quali abbiamo lavorato molto in questi anni per cercare di colmare quelle differenze anche tra regione e regione perché poi avevamo anche questa situazione un po' a macchia di leopardo sul territorio nazionale e tuttavia la situazione diventerà ancora più omogenea e quindi consentirà meno margini anche interpretativi laddove appunto i letta saranno approvati questo diciamo vale sia per la domanda che aveva fatto lei a cui poi risponderemo nel dettaglio sia per la domanda che aveva fatto la 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 senatrice Rando Rando grazie scusatemi perché sui nomi ancora devo li 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 imparerò diciamo vale perché poi le differenze regionali a volte stanno anche in queste in queste in queste situazioni e rispetto invece alla domanda del presidente allora il sistema sanzionatorio a livello a livello penale in materia ambientale è stato profondamente innovato con la legge 68 del 2015 diciamo in quegli anni il Parlamento questo devo dare atto perché è stato uno sforzo comune le sono due leggi approvate una all'unanimità e una diciamo a stragrandissima maggioranza con la legge del 2015 la 68 sui cosiddetti ecoreati il termine è a tecnico ed è diciamo assolutamente impreciso soprattutto per uno che come me come il presidente come molti voi è una formazione giuridica ma rende bene l'idea con la legge istitutiva dell'SNPA diciamo si è sforzato il Parlamento di recepire una serie di diciamo di situazioni da un punto di vista dell'applicazione pratica anche dei confronti che noi svolgiamo periodicamente con le autorità giudiziarie uso il plurale perché molte sono ovviamente le procure con le quali le procure della Repubblica con le quali collaboriamo nelle attività ispettive di monitoraggio e controllo è emerso che la legge in questi primi 7-8 anni di attività ha rivelato la sua efficacia sia da un punto di vista di deterrenza rispetto alle condotte di reato sia rispetto al tema poi della efficacia delle sanzioni che sono state inasprite furono inasprite nel 2015 e che sono le più alte d'Europa le più diciamo sia sotto il profilo amministrativo e quindi della parte economica sia sotto il profilo più strettamente connesso a misure restrittive della libertà personale che sono previste in ipotesi ovviamente tipizzate e su questo c'è stato poi il lavoro evidente del Ministero della Giustizia che riguardano soprattutto i reati di disastro ambientale di traffico illecito dei rifiuti è anche vero però quello che diceva lei Presidente cioè che le persone che poi sono state sottoposte effettivamente a misure detentive sono state che a noi risulti meno di una decina adesso sul caso poi sui numeri verifichiamo e le facciamo sapere questo però ammonta del fatto che soprattutto sulla terra dei fuochi il tema di fondo è quello che non si riesce poi a risalire al responsabile della violazione o del reato e questo un po' in generale cioè molti diciamo dei reati che riguardano i rifiuti con la compromissione dei terreni e con la necessità anche di provvedere alle bonifiche che come sapete sono in capo al trasgressore a chi ha commesso il reato risentono del fatto che per una serie di situazioni su cui si sta cercando di intervenire anche con l'autorità giudiziaria le forze dell'ordine anche utilizzando gli strumenti che la tecnologia i nuovi strumenti l'osservazione satellitare l'utilizzo dei droni ci stanno mettendo a disposizione però su quello oggettivamente ci sono meccanismi che non rendono agevole l'individuazione immediata del trasgressore e quindi una volta che poi si scopre che quel terreno è stato contaminato o sottoposto a un certo tipo di pressione ambientale per cui è inquinato si fa più fatica a risalire diciamo anche per alcuni meccanismi che poi sono stati nel corso degli anni e abbiamo visto che insomma sono stati utilizzati da chi commette questi reati attraverso meccanismi di gestione societarie fittizie quindi insomma alla fine molti di questi terreni di fatto non sappiamo a chi diciamo chi sono i proprietari e quindi facciamo molta fatica questo poi insomma potrete anche audire i magistrati che si occupano diciamo più strettamente di queste di queste materie noi abbiamo cercato di stabilire rapporti di collaborazione insomma tra l'altro io stesso ho partecipato a diverse riunioni una delle quali un paio di mesi fa che è stata voluta dal ministro della giustizia che ha riunito diciamo a livello europeo i procuratori dei singoli stati membri che si occupano di reati ambientali però per stabilire una rete all'interno delle procure degli stati membri ho svolto una relazione sul tema dei controlli in Italia quindi stiamo cercando di dare maggiore anche organicità questo ovviamente nel rispetto dei compiti delle competenze della magistratura e delle forze dell'ordine ma cercando di collaborare per cercare di risalire di prevenire da un lato intercettare immediatamente dall'altro e quindi individuare anche il responsabile riporto solo senza una valutazione al momento che una discussione che si fece che il legislatore del 2015 diciamo fece rispetto diciamo all'efficacia dell'impianto sanzionatorio cioè si decise di intervenire molto sull'aspetto amministrativo economico perché diciamo si era dalle statistiche che avevamo allora si era capito che era l'aspetto che contribuiva maggiormente alla deterrenza rispetto all'eventuale commissione di reati in sostanza adesso mi scuso se volete per la banalità dell'esempio colpiva di più una persona una sanzione economica elevata piuttosto che magari un avviso di garanzia con la possibilità di un processo che sarebbe durato anni eccetera allora fu fatta questo tipo di considerazione che poi il legislatore quando ha approvato la legge ha ritenuto di condividere il che non toglie Presidente che si possa sulla base dei dati che dopo questi 7-8 anni abbiamo a disposizione intervenire nuovamente su questo se la commissione ritiene noi forniremo i nostri dati e poi parteciperemo se voi lo riterrete a un confronto per verificare se le sanzioni sono ancora attuali o se debbano essere in qualche modo ridefinite sulla base anche delle nuove situazioni per il resto cedo la parola ai colleghi io mi scuso se ho preso subito la parola ma siccome ho fatto prima il direttore dell'istituto e poi il presidente ormai da qualche anno che sono fuori dal ministero dell'interno che poi alla fine il concetto di sicurezza ambientale ormai è entrato e di sicurezza energetica sono entrati a pieno titolo diciamo nel concetto più ampio di sicurezza quindi in qualche modo riguardano anche le competenze del ministero da cui provengo quindi ho dato questo diciamo ho fatto questa sottolineatura iniziale perché sono testimone delle esperienze grazie della parola diciamo convengo anche io con quello che il prefetto Laporta diciamo ha segnalato cioè che con la legge 68 del 2015 è stata diciamo una riforma storica diciamo che ha contribuito in qualche maniera ad individuare delle illeciti delle violazioni specifiche diciamo i renti non soltanto il disastro ambientale ma anche per esempio il rischio diciamo di inquinamento diciamo ambientale quindi quella che può essere la sfera diciamo della normativa anche giuridica di applicazione del regime sanzionatorio è stato potenziato diciamo per quanto riguarda la depenalizzazione diciamo è tutto ruota in mano alla figura ecco della polizia giudiziare che poi sulla scorta dell'esempio della normativa sulla sicurezza del lavoro che già era di in essere diciamo si è cercato di applicare alla parte ambientale diciamo la regolamentazione della prescrizione cioè per rimuovere quella che è la la violazione il motivo diciamo dell'inosservanza e poi adeguare qui l'unico aspetto che non è similare alla parte di sicurezza sul lavoro è che nella parte ambientale bisogna per essere applicata questa depenalizzazione quindi per alleggerire anche e migliorare il processo diciamo dal punto di vista diciamo istruttorio dell'adempimento è che bisogna certificare che non ci siano diciamo ricadute effetti ambientali sulle matrici quindi non sempre tutte le violazioni di carattere banale possono godere del regime di depenalizzazione quindi questo diciamo rappresenta un limite che diciamo perché di fatto diciamo viene lasciata la valutazione diciamo a quelle che possono essere gli effetti cioè se nel momento in cui io ho un superamento di un valore limite diciamo di un emissivo autorizzativo devo considerare quelle che sono poi gli effetti quindi le cosiddette emissioni quindi nelle varie matrici oltre che diciamo quelle che possono essere suolo e sotto suolo quindi questa è la per quanto riguarda la prima domanda del presidente in relazione alla seconda domanda che si faceva sulla parte autorizzativa indubbiamente diciamo l'approccio integrato è un approccio innovativo perché che diciamo perché non dovrebbe essere focalizzato soltanto a quella che il valore emissivo diciamo del che viene ribadito diciamo anche nelle autorizzazioni diciamo sia a livello regionale che a livello nazionale però si ribadisce il valore emissivo in quanto diciamo molte i punti di emissione vengono censiti e quindi è molto più semplice diciamo andare a indicare quella che può essere diciamo un valore limite all'interno del quale c'è una soglia di tolleranza da rispettare c'è da dire che a livello europeo diciamo quindi in questo entra diciamo a normativa europea di diciamo di rivalutazione si sta andando verso non tanto il valore limite quanto sulla prestazione in considerazione alla tecnica la migliore tecnica disponibile applicata cioè l'autorizzazione dovrebbe tendere a vedere l'efficienza di trattamento diciamo di contenimento della migliore tecnica industriale produttiva applicata cioè se uno impianto diciamo di abbattimento se funziona regolarmente lasciando un margine di tolleranza a quelle che possono essere diciamo le 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 evoluzioni anche produttive diciamo quindi questo dovrebbe essere l'approccio però per fare questo c'è necessità di una modifica della direttiva IED che è in corso diciamo questo tipo infatti il ministero non siamo di supporto anche al ministero nelle attività internazionali per quanto riguarda questo ricepimento di certo dire che l'Italia nel momento in cui l'ha recepita diciamo considera poi i documenti comunitari di riferimento per fare per redigere l'autorizzazione sono i documenti BREF e BAT conclusion diciamo all'interno del quale ci sono delle prestazioni delle forchette quindi non viene considerato tanto diciamo il valore diciamo della unità produttiva come nel suo insieme ma quanto viene molte volte questo è però il compito dell'autorizzativo che effettua la commissione istruttoria aglia nazionale e le varie commissioni regionali o esperti regionali che collaborano nelle autorizzazioni quindi noi come enti di controllo come enti tecnico-scientifici delle regioni diciamo del ministero per il ministero diciamo contribuiamo diciamo nel far capire che diciamo che c'è questa esigenza però nel momento in cui viene fatto il controllo il controllo diciamo certamente è un controllo integrato perché riguarda determinati aspetti quindi il controllo non viene fatto soltanto da una persona viene fatto con gruppi ispettivi questa è stata un'impostazione iniziale nostra che è iniziata dai fini anni 90 dell'ISPRA diciamo che coinvolgendo le varie agenzie abbiamo creato gruppi ispettivi ma tale che non sia soltanto una decisione di una singola persona o di poche persone ma si garantisce in qualche maniera la pluralità dell'approccio e anche la massima trasparenza e anche contro ogni nella linea dei principi dell'anticorruzione perché ci tornasse più persone quindi la logica è quella certamente di questo approccio integrato però molto dipende da come viene scritta l'autorizzazione quindi diciamo questa è la per quanto riguarda l'altra domanda sulla terra di fuochi diciamo io non sono riferisco però nella nella relazione c'è scritto che per tutte le attività di cui sono state censite dove sono state diciamo perché il censimento ha ha comportato quello che è un confronto con le CSC oltre che a individuare dei valori dei criteri di rischio ma anche il confronto con le CSC con quelle che sono le concentrazioni di soglia di contaminazione e quindi per tutte quelle diciamo pratiche quelle diciamo evidenze in cui c'è stato questo superamento sono state fatte le attivate le diciamo i procedimenti 244 quindi sono in corso ecco i procedimenti diciamo che ricadono nell'attività regionale diciamo di competenza regionale diciamo di bonifica dei vari siti quindi singoli siti quindi questa è la per quanto riguarda la domanda che è stata fatta sull'indubbiamente dalla parte della senatrice diciamo noi mentre abbiamo presentato un un particolare degli impianti diciamo sul per regioni quindi in particolare dell'impianto della distribuzione degli impianti con le varie visite il dato diciamo che abbiamo dato per le 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 regolarità quindi quelle che possono essere le contestazioni sia di carattere sanzionatorio amministrativo che penale diciamo sono aggregate noi ci riservi questo diciamo noi ce l'abbiamo il dato diciamo di disaggregato perché diciamo proprio in relazione alla al gruppo di lavoro con l'SNPA diciamo noi non è che raccogliamo i dati per ogni singola regione quindi possiamo produrre diciamo questo particolare diciamo quindi questa tabella in relazione al dato raffrontando il dato del 2021 con la tipologia diciamo l'ultima domanda del per quanto riguarda Taranto diciamo la quindi l'acciaieria di Taranto noi insieme con il ministero che è l'autorità competente abbiamo anche partecipato a un'audizione con la commissione europea nel mese di settembre diciamo nella quale diciamo è stato confermato l'adempimento diciamo dello stabilimento sidirurgico a quello che era il piano ambientale previsto diciamo dal DPCM del 29 settembre 2017 che è scaduto nel 2023 c'è da far notare quindi sono stati diciamo in questo sei anni diciamo in cui c'è stata la seconda versione del piano ambientale perché il primo del 2014 il secondo quello del 2017 c'è stato imponenti opere diciamo di adeguamento diciamo perché appunto all'interno dello stabilimento basti pensare alla copertura ma basti pensare a tutti i presidi ambientali diciamo che ci sono soprattutto nella parte a caldo per quanto riguarda l'agglomerato la sintetizzazione è andato in funzione è stato ultimato il diciamo i cosiddetti filtri meros per l'abbattimento delle polveri e anche che hanno un effetto diciamo sull'andamento delle diossine proprio è attivo ISPRA svolge un'attività costante diciamo di monitoraggio cioè a dire che quello che sto dicendo poi dopo potremmo produrre una relazione specifica che noi già abbiamo inoltrato al ministero per quanto riguarda ISPRA prosegue un'attività costante insieme con l'ARPA Puglia diciamo ha da effettuare un presidio facciamo quattro verifiche all'anno diciamo per ogni trimestre diciamo quindi monitoriamo costantemente oltre ARPA anche diciamo quello che è il monitoraggio dei camini diciamo in continuo per quanto riguarda i valori allo SME negli ultimi anni quindi per quanto riguarda il piano ambientale è diciamo terminato per tutti gli impianti attivi alcuni impianti sono rimasti fermi e quindi quegli impianti in cui sono rimasti fermi diciamo l'adeguamento non è stato effettuato perché è in corso basti pensare all'alto forno 5 il più grosso diciamo come potenzialità d'Europa che deve essere prevista quindi eventualmente capire se è in previsione diciamo un rifacimento oppure no il piano ambientale è stato completato per alcune parti diciamo ci sono alcune prescrizioni che sono quelle relativamente alla regimazione delle acque meteoriche diciamo che riguarda diciamo tutto lo stabilimento e gli sporgenti si parla di una città perché diciamo di fatto la superficie l'estensione è analoga a quella della città nel senso infatti onorevole se ben sa diciamo quindi sono opere imponenti in cui sono stati iniziati i lavori diciamo i lavori diciamo perché poi le acque meteoriche vanno trattate in impianti di trattamento per quale per la finalità e la finalità è quella del recupero quindi nella finalità del recupero della risorsa essenziale la risorsa naturale diciamo per poterle riutilizzare e quindi in questo siamo anche siamo di supporto al ministero nel seguire Ispesporto nel seguire tutta la direttiva sul riuso delle acque che dovrà essere disciplinata e che è stata per queste prescrizioni che il ministero ha emanato dei decreti di rimodulazione quindi sono stati individuati delle misure gestionali di gestione delle acque meteoriche e quindi l'osservimento istitologico viene vigilato su queste modalità di gestione delle acque meteoriche per un periodo transitorio l'ultimo aspetto che riguarda Taranto c'è stata quest'anno la 2022 2023 è stato imperinato di cosiddetti allarmi anche sociali individuati sia dall'ARPA ma anche dalla parte dell'azienda ASL di strutture sanitarie inerenti il benzene effettivamente perché in questo ambito però rientra le competenze dell'ARPA Puglia perché l'ambiente esterno lo stabilimento viene monitorato le centraline di monitoraggio della qualità dell'aria sono di competenza dell'ARPA Puglia perché adotta gli stessi criteri per la validazione della rete regionale qualità dell'aria quindi ci sono alcune postazioni nel quartiere Tamburi che sono sotto osservazione noi che cosa abbiamo fatto abbiamo come Ispra abbiamo stimolato con la collaborazione dell'ARPA di fare ulteriori rilievi monitoraggi perché questo è il ruolo degli agenti tecnico-scientifici quello di fare i rilievi ambientali sulle sorgenti e quindi sono in corso degli monitoraggi non soltanto presso lo stabilimento siderurgico ma anche presso Eni con della strumentazione portatile per il monitoraggio del BITEX i cosiddetti policiclici aromatici soprattutto riguardo alla parte benzene e quindi sono in fase di valutazione in fase di approfondimento di fatto ci sono delle irregolarità che sono state riscontrate quest'anno ma riguardano sempre irregolarità di carattere prescrittivo diciamo di appunto di vista sulla parte emissioni diciamo a parte prescrizioni quindi quindi non riguardano per adesso gli effetti che riguardano i limiti di emissione quindi questo è l'approccio sicuramente l'impianto strategico nazionale è un impianto rilevante uno dei più complessi d'Europa è rilevante e che ha necessità di un'attenzione continua e questo è il nostro impegno insieme con l'ARPA Puglia noi cerchiamo di durare tutto quello che viene diciamo riscontrato il nostro compito è quello di segnalarlo quindi a seguito di un controllo se c'è un inadempimento dobbiamo mandare una comunicazione oltre che al ministero perché è l'autorità competente per miglioramento continuo ma anche all'autorità giudiziale nel caso in cui si scontra la parte penale quindi questo è però lo stabilimento diciamo non ci sono situazioni diciamo da punto di vista che possono in questa fase compromettere diciamo in qualche maniera l'esistenza dello stabilimento diciamo fino a quando non vengono dimostrate cioè questo studio sul benzene è in corso diciamo di approfondimento quindi sicuramente una sorgente del benzene è all'interno del ciclo produttivo diciamo perché il gas di cocheria viene diciamo all'interno quando si produce il gas di cocheria viene diciamo viene prodotto anche benzene contiene anche benzene quindi però tutto viene gestito diciamo nella per il massimo contenimento e abbattimento se non ci sono altre domande penso che gli argomenti siano tanti e interessanti quindi bisogna che anche come commissione noi facciamo un'analisi per valutare su quali aspetti vogliamo concentrare l'attenzione di modo che possiamo avere materiale e possiamo approfondirli io ringrazio il presidente prefetto Stefano Laporta ringrazio il dottor Andrea Lanza ringrazio il dottor Fabio Ferranti ringrazio i commissari intervenuti sia in collegamento che vedo che sono collegati sia in presenza e dichiaro conclusa l'audizione grazie ancora grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.